Una giornata intensa conclusa nell'edificio religioso più antico di tutta l'America Latina, l'imponente complesso della Chiesa e del Convento di San Francesco. Incontrando i membri della società civile, subito dopo aver ricevuto dal sindaco le chiavi della città di Chito, Papa Francesco ha pronunciato un discorso intenso senza precludersi alcune battute e piccole aggiunte. Il punto di partenza sono state ancora una volta le urgenze della società contemporanea, tra cui la tutela della famiglia, dove le persone ricevono i valori fondamentali dell'amore, della fraternità e del reciproco rispetto, che si traducono in valori sociali essenziali, la gratuità, la solidarietà e la sussidiarietà. In una società dove prevale lo scarto e la volontà di imporsi, bisognerebbe ricordare che i beni sono destinati a tutti e per quanto uno stenti la propria proprietà, pesa su di essi un'ipoteca sociale. La gratuità non è un complemento, ha insistito il Pontefice, ma un requisito necessario della giustizia. Pensando alle emergenze ecologiche, alle migrazioni, alla disoccupazione, alle sacche di povertà che producono incertezze e tensioni, Papa Bergoglio ha nuovamente richiamato tutti al bene comune. Il dialogo, ha detto, è necessario, essenziale per arrivare alla verità, che non può essere imposta, ma cercata con sincerità e spirito critico. Grazie a tutti.